E lo sapete dunque perché ci abbiamo tenuto a mandarvi alcune molto chiare indicazioni perché oggi abbiamo avuto come prima ospite una donna speciale che giustamente ci ha esaltato la vita di tutti anche di sua figlia Pamela dopo quello che è accaduto in termini davvero terribili durante una vacanza. Ma noi siamo abituati in questo programma a passare su piani differenti proprio surfando se mi passate il termine che ormai grazie alla tecnologia è diventato metaforico non si fa soltanto surf fisicamente e beati chi ci riesce lo si fa appunto in tanti ambiti si cavalcano onde differenti l'importante è non cadere non farsi travolgere appunto. E noi sicuramente abbiamo un'onda straordinariamente bella ma anche non facile da cavalcare con il libro che presento adesso grazie al suo autore che è il professor Giovanni Chifari bentornato. Grazie e bentrovati a tutti. Giovanni anche se può essere un piccolo sforzo ogni tanto guarda in camera perché il tuo sorriso appunto i tuoi telespettatori se lo aspettano oltre alla tua competenza e intelligenza. La parola si è fatta carne e storia bibbia e antropologia culturale subito abbiamo la copertina e subito partiamo piano piano sull'onda perché quella immagine cosa ci dice? Dice un creatore sembrerebbe Gesù ma in realtà è il padre siamo nella cattedrale di Chartres ed è raffigurata la creazione di Adamo per dire che padre figlio e spirito santo sono presenti fin dal primo atto creativo. È il Dio che modella l'uomo avendo come immagine Cristo Gesù e proprio di questa centralità cristologica si parla in questo libro affinché possa essere intesa non in modo astratto ma in modo concreto perché riguarda una concretezza storica. Il verbo, la parola si è incarnata e si è fatta evento appunto storia. Giovanni, adesso tra l'altro stavo ripensando disperatamente al perché non ho notato questo basso rilievo ma la cattedrale di Chartres in effetti ha talmente tanti capolavori che forse era inevitabile. Ma il problema è che mi potrebbe sfuggire molto di più che qualche basso rilievo di antiche cattedrali. Spieghiamo anche questa disciplina che ha una parola un po' sembrale, antropologia, poi culturale. Che cos'è di per sé? Beh innanzitutto dobbiamo dire che dal concilio Vaticano II in poi e in particolar modo dopo il 1993 con il documento della Pontificia Commissione Biblica sulla interpretazione della Bibbia nella Chiesa allora abbiamo la possibilità di applicare diverse metodologie allo studio della Bibbia. Nella chiara consapevolezza tuttavia come è detto in questo testo che la Sacra Scrittura fondamentalmente si apre dal di dentro attingendo a quella categoria principale sul piano antropologico che è la relazione. Si apre dal di dentro perché il punto di unità della scrittura è esterno ad esse ed è appunto la relazione, la fede nella persona di Gesù Cristo. E allora questo si intende fare a livello scientifico, si intende rivalorizzare il rapporto tra fede e cultura per far comprendere che anche la fede è storica, la fede di coloro che hanno creduto in Cristo, di coloro che hanno scritto. Tuttavia c'è una distanza culturale che occorre col mare anche attraverso l'ausilio di quelle metodologie che possono aiutarci, quindi l'antropologia, la sociologia, la psicologia. Sono tutte discipline appartenenti alle scienze umane che utilizziamo per descrivere in modo più coerente e concreto, studicamente parlando, la vita dei gruppi umani sottesi alla nascita dei dati biblici, delle pagine bibliche. Prima di concentrarci anche su alcuni termini, vogliamo ricordare subito il tuo maestro che solo un paio d'anni fa ci ha lasciato, padre Giovanni Bellia. Padre Giuseppe, Don Giuseppe Bellia, il 12 marzo del 2020 perché appunto ogni scrittura non è mai improvvisata ma è sempre l'oggettivazione di un lungo percorso, di un lungo cammino e bisogna anche mettersi alla scuola di coloro che con grazia, acribia, umiltà, competenza, con un grande dono di sapienza come ha avuto Don Giuseppe Bellia, ci hanno preceduto in questo cammino. In un certo modo io ho cercato di raccogliere quello che lui mi ha insegnato in tutti questi anni, anche di affiancamento, nei quali anche lui mi aiutava, mi informava in tal senso a questo ambito del rapporto tra Bibbia e antropologia. Lui era un teologo biblico, che sono anche io un teologo biblico e quindi abbiamo ritenuto che in questa realtà ci fosse una grazia da suggerire, da trasmettere. Anche per i cristiani, i chiese e i cultori della scienza teologica in questo nostro tempo, che è divenuto in realtà molto più sensibile a questa collaborazione interdisciplinare. Si parla oggi di interdisciplinarietà, come si parla anche oggi di complessità, ma qui poi entriamo in una metodologia e in una terminologia anche molto più complessa. No, invece adesso ritorniamo semplicemente a una parola che tutti conosciamo meglio, che è humus, che è la radice anche del termine umile così importante per ogni persona, non solo evidentemente per chi gravita, ambienti religiosi o francescani. Humus è una parola che tu, come dire, fai risaltare anche in parallelo con un termine tedesco meno facile. Ci puoi in 30 secondi dare uno spunto su questo? Beh, humus sappiamo tutti di cosa si tratta. L'humus è una realtà generativa. Ecco, possiamo accostare la realtà dell'humus alla generatività. E così le scienze sociologiche sono un po' accostabili alla realtà dell'humus. Io ho cercato di mostrare il percorso che dall'humus conduce all'humwelt, un termine di lingua tedesca, come ricordava Maria Pia. Humwelt indica la soggettività di colui che presenta lo sguardo. Facciamo un esempio. La foresta, a secondo dello sguardo di chi la vede, può avere una prospettiva diversa. Per un bambino può evocare chissà quale fantasia, per un agronomo invece indica una prospettiva differente. Allora perché porre l'accento sullo sguardo? Perché anche qui dipende da come noi studiosi guardiamo la Bibbia, la Sacra Scrittura. Abbiamo bisogno di recuperare lo sguardo di Cristo, lo sguardo della fede. E dunque assumiamo la conversione come metodo in questo libro. Bellissimo. Direi che sei stato anche nei tempi perché noi vogliamo rilanciare quello che l'Arcivescovo di Palermo, noi abbiamo qui un palermitano, poi lo commenterà, ha voluto ieri lanciare come appello a tutti i giovani. Sentiamo subito da questo video che è in un giorno di festa, ma anche in un giorno drammatico. No, non ce l'ho. Abbiamo il video, e lo troveremo senz'altro, di Monsignor Corrado Lorefice nel suo messaggio alla città in occasione del festino della patrona Santa Rosalia. Rosalia, rivolgendosi ai giovani, ha detto come Rosalia siete chiamati a sprezzare energia di bene, di gioia vera, cosa ben diversa dallo sballo. Eccolo. Gridiamo forse e non facciamolo in silenzio. Gridiamo forte stasera nel festino di Rosalia il nostro desiderio di riscatto dalla mafia. A viso aperto, a cielo aperto, no alla mafia, sia ai nostri figli, sia ai nostri figli. Convertitevi, convertitevi anche voi mafiosi. Rosalia non sarà mai con voi, vi rinnega, sarà sempre dalla parte delle vittime. Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Pino Puglisi e tutti i martiri della giustizia e della fede ci hanno aperto gli occhi e il cammino del riscatto della nostra stupida, della vostra stupida tracodanza. Tracodanza. Tra tre giorni ne riparleremo di questi temi per l'anniversario della morte di Borsellino. Come parermitano, come uomo di chiesa, un brevissimo commento. A volte la sapienza grida anche nelle scritture, lì dove c'è difficoltà ad udire o dove c'è un non ascolto volontario. Ecco, in questo caso la chiesa ha anche questo ruolo di insegnare, insegnare ciò che è bene e indicare ciò che è peccato, indicare il male. Coloro che si arricchiscono, soprattutto approfittando delle categorie più, diciamo, tipo i giovani, le categorie più fragili, ecco. Allora costoro compiono peccato dinanzi a Dio ed è compito della chiesa e anche del vescovo dire ciò che non va, dare questo messaggio che poi fondamentalmente è sempre un invito alla conversione che ricorda anche quel grido di Giovanni Paolo II nella Valle dei Tempoli, lì dove anche lui ha invitato appunto alla conversione. Non abbiamo ulteriore tempo però volevo specificare ancora una volta il titolo, la parola si è fatta carne e storia. Grazie a Giovanni Paolo II. Edizioni il Pozzo di Giacobbe. Certo, edizioni Pozzo di Giacobbe.